Malgrado il lodevole tentativo di ridurre attraverso la codificazione del diritto umanitario le conseguenze negative delle ostilità sulla popolazione civile, troppo spesso giungono da diversi teatri di guerra testimonianze di crimini atroci. Con queste parole Papa Francesco ha accolto in Vaticano i partecipanti alla conferenza sul diritto internazionale umanitario. Il Pontefice ha parlato non solo di uomini e donne torturati, massacrati, di antiche città con i loro millenari tesori culturali ridotte a cumuli di macerie, ma anche di come la diffusione di queste informazioni possa comportare una certa saturazione che anestetizza e in qualche misura relativizza la gravità dei problemi. Di cui l'invito a convertire i propri cuori, a vivere la solidarietà e a sostenere le tante manifestazioni di carità. Davero il soccorso alle popolazioni vittime dei conflitti assomma diverse opere di misericordia sulle quali saremmo giudicati al termine della vita. Possano le organizzazioni umanitarie agire sempre in conformità con i principi fondamentali di umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza. Mi auguro pertanto che tali principi che costituiscono il cuore del diritto umanitario possano essere accolti nelle coscienze dei combattenti e degli operatori umanitari per essere tradotti nella pratica. Grazie a tutti i nostri spettatori